bravi 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 un applauso va a quelle persone che ieri sono partite complimenti ma che persone intelligenti che siete talmente intelligenti che siete partiti tutti tutti appassionatamente sembra un viaggio verso questo padre pio con tanto di rispetto per padre pio ma dove cazzo andate dove cazzo andare dov'è che andate lombardia zona rossa lombardia chiusa questi si mettono a contattare l'ultimo treno che parte da milano verso il sud prendiamo tutto il treno andiamo giù via andiamo tutti insieme appassionatamente ma siete scemi ma siete venuti no cioè voi partite da milano andate al sud per contagiare i vostri familiari e la gente che vi circonda cioè ma voi non state bene con la testa ragazzi ma che cazzo scendete a fare se c'è la lombardia a altre zone rosse statevi là non mi muovete ma che cazzo vi muovete testere cazzo così voi si chiamate essere cazzo lascia stare ai psicosi la paura ma quando fate una cosa e ci ragionate o no che cazzo ci avete dentro i che cazzo nei suoi i manifesti di berlusconi ci avete dentro quella cazzo di testa ma ci ragionate tutti a parti andiamoci e partiamoci via quando è l'ultimo treno 23 20 ma dove cazzo andate peggiorate la situazione peggiorate la situazione venite al sud per rovinarci ancora di più cioè ragazzi ma stiamo scherzando a chi parte vado a trovare la mia fidanzata vado a trovare mia nonna e mia madre ma li mettete nei guai li mettete nei guai meno male meno male che i nostri sindaci hanno provveduto meno male che emiliano ha detto che arriverà dal nord verrà bloccato nelle stazioni autostrade aerei perché non si può fare non si può fa non si può fa che cazzo che ne volete se state una città lavorare che cazzo ne so c'avete la zona rossa chiusa dovete stare in casa rispettate c'è rovinate ancora di più voi così ma che cazzo veste appena in quella testa dei cazzo che avete ma ragionati ma ragionate o fate finta cioè ci state mettendo tutti nella merda già qua gli ospedali so pieni ci mancate ancora voi ma da ma cazzo e come cazzo e prima di partire prima di fa nazione se ragionare la testa se ragionare la testa dove cazzo la tenete la testa dove cazzo la tenete sopra il mobile per fare la muffa per fare un po di polvere ma come cazzo non è così dovete ragionare prima di fa una cosa che cazzo veniva fa sarebbe la chiudere dentro casa fare un cruciverba giocare la play che cazzo non vedete barbara russo h24 ma non date via non andate c'è rovinate c'è rovinate c'è stavano uno con l'altro prende parte ci torno loro decidete voi quando partire se ci sono delle regole rispettate non fare di testa vostra mamma mia ma non sentite le tv no c'è lombardia chiusa a tutti che parte via andiamo tutti stazioni a partire ma che cazzo era trasferta c'è stavano posti in piedi non c'erano più treni e chissà quante persone ancora sono partiti in privato con macchine cose che non ancora noi non sappiamo cioè ragazzi ci state rovinando ci state rovinando siete codardi codardi e il resto responsabili codardi e responsabili perché prima ne fa una cosa si usa la testa si usa la testa molto la testa no faccio che cazzo che ne voglio tanto che cazzo me ne frega a me me ne vado giù e via è passato ma ti pensi che il virus non te lo porti giù no il virus appena ti vede dice a sebbene di treno mi scusi io mi allontano ma sei una testa di cazzo perché te lo porti con te cioè ragazzi ci stanno a prendere tutti in giro ci stanno a prendere tutti tutti in giro ci stanno a prendere quelli tessuti quelli tessuti e voglia quelli che cazzate che facciamo ce ne scappiamo facciamo dei cazzi nostri tanto chi cazzo ci comanda nessuno complimenti questo è un applauso ma non è un applauso sincero è un applauso della merda perché siete delle merdi e cazzo vieni da fa scusatemi di tutte queste cose ma sono incazzato perché sto vedendo la televisione è un casino è un casino è un casino non vi muovete non vi muovete qui è un inferno a taranto ci hanno messo le catene negli autobus notte vicino all'autista devi stare un metro di distanza e a voi che fate partite venite tutti al sud vai via andiamo a trovare parenti ma non siete venuti nel momento del bisogno tutti trova i parenti state sveglia qua è una guerra qua è un virus e al cielo state facendo prendere voi a noi che scappate dalla zona rossa venite giù sveglia scusate per le parolacce però non si fa così si usa la testa ragazzi speriamo che questo virus finisce perché veramente sa perdere i capelli sto a perdere i capelli già non ne ho più stop ragazzi al prossimo video da giovi 87 seguitemi sempre e speriamo che un'altra testa ragazzo non se ne scappa dalla zona rossa teniamoci sotto controllo e forse è meglio